Salis, dopo vari ricorsi oggi sono stati concessi gli arresti domiciliari a sua figlia Ilaria che scatteranno a Budapest nel momento in cui verrà pagata la cauzione da 40.000 euro, mi sembra, no? Le volevo chiedere chi paga la cauzione e quando e ci sono possibilità che sua figlia Ilaria venga trasferita presto in Italia ai domiciliari? Allora la cauzione in realtà sono 16 milioni di fiorini ungheresi che sono un pochino di più di 40.000 euro Ilaria ha cercato di stimolare una raccolta fondi che ha dato dei buoni frutti per cui si useranno quei fondi lì per il pagamento delle sue spese legali e poi evidentemente se non dovesse bastare interviene la famiglia E quando avverrà questo? Perché nel momento in cui verrà pagata la cauzione Ilaria uscirà dal carcere di Budapest, no? Sì, in questo momento siamo in attesa di capire i dettagli perché tutto è successo molto repentinamente da oggi pomeriggio In questo momento non ho ancora Liban dove effettuare il bonifico per cui stiamo aspettando questi dettagli C'è stato detto che nel momento in cui arriva il pagamento da quel momento diventano effettivi i domiciliari Per cui spero che sia veramente una questione di poche ore E per invece fare i domiciliari in Italia? Perché se no Budapest deve trovare un luogo dove stare, no? Perché ha l'obbligo di portare il braccialetto elettronico Sì, certamente abbiamo trovato un domicilio, altrimenti non sarebbe stato possibile fare la richiesta Per i domiciliari in Italia noi abbiamo già chiesto parecchie volte l'applicazione della decisione quadro 2009-829 dell'Unione Europea E ripresenteremo questo, ma credo che sarà più veloce la procedura relativa all'immunità Susseguente alle elezioni Se verrà eletta, perché ricordiamolo che è candidata con AWS Ma le volevo chiedere se voleva ringraziare il governo di Giorgia Meloni Perché oggi il ministro degli esteri italiani ha detto che questa decisione dei giudici ungheresi È merito del governo italiano e dell'ambasciata Che hanno lavorato intensamente senza fare propaganda Ma guardi, questo mi risulta poco Io dico che noi abbiamo seguito le indicazioni del governo, in particolare del ministro Nordio Per richiedere i domiciliari in Ungheria il 28 di marzo Ci sono stati rifiutati con sdegno Perché il giudice aveva già preparato il dispositivo E l'ha letto immediatamente dopo che il difensore di Ilaria aveva letto le motivazioni Che portavano a sostenere la richiesta dei domiciliari Quello che è successo dal 28 di marzo ad oggi È che Ilaria è stata candidata per AWS alle elezioni europee E guarda caso dopo che sono arrivati i domiciliari